Ci troviamo qui all'Hotel Napolimia, sono con l'attore e regista Gianluca Masone, un caro amico, ci siamo presi un caffè. Da una chiacchiera a un'altra, abbiamo deciso di raccontare un evento che a breve avrà luogo, inizierà un progetto molto interessante, che potrete assolutamente andare presso il Clebbino per assisterlo. Indovina chi viene al Clebbino? Raccontiamolo. Innanzitutto grazie per questa ospitalità. Sì, è un gioco durante il quale ospitiamo, tra virgolette, degli autori, degli autori che hanno scritto di teatro, autori che appunto fanno parte della letteratura nazionale ed internazionale della storia del teatro. E beh, diciamo, degli attori si incontrano, mettono insieme delle performance di autori, ovviamente non sveliamo chi è l'autore, sarà il pubblico presente all'evento a scoprire chi è l'autore, appunto l'autore misterioso ospite di questo gioco. Il gioco live è diviso in tre manche. Una prima manche d'apertura che attraverso una performance introduce una prima opera, dopo il pubblico è chiamato a decidere chi è questo autore ospite. Poi si passa con una seconda manche dove il pubblico è coinvolto attivamente durante questo gioco. Piena partecipazione. Sì, è interattivo. Ecco, anche dopo questa seconda manche si può tranquillamente stabilire chi è questo autore misterioso e poi andiamo con una terza manche che è quella conclusiva e poi la proclamazione. Sveliamo chi è l'autore e proclamiamo i vincitori. Dico i vincitori perché Anna? Perché noi diamo la possibilità anche ai... ormai sul web viviamo tutti. Certo. Per cui anche sul web noi apriremo 24 ore prima dell'inizio del gioco, quindi il 14 apriremo questa gara anche sul web. Il pubblico dovrà capire già dal web, dovrà cimentarsi. Sarà fatto un sondaggio sul gruppo del Clebino e il gruppo Il Mondo degli Eclettici, dove saranno messi dieci autori e i primi tre che indovineranno parteciperanno gratuitamente all'evento. Ovviamente sveleremo soltanto alla fine però, quindi tutti parteciperanno dando questo contributo, questo obolo iniziale. Alla fine sarà restituito laddove ci sono anche i vincitori del web. I vincitori invece del gioco live avranno gratuitamente un biglietto omaggio offerto dal nuovo teatro San Carluccio. Perché ecco, che ringrazio, approfitto per ringraziare, ringrazio il Clebino che ospita questa iniziativa e ci auguriamo ecco di avere un pubblico presente, che partecipi e che possa emozionarsi e giocare con noi. Perché alla fine è un gioco per portare anche un po' alla luce quelli che sono gli autori che, ahimè, non vediamo spesso nei cartelloni teatrali. Quindi diventa anche un gioco per poter riportare alla luce alcuni autori... Riscattarli. Riscattarli un po', sì. Allora, ricordiamo dal 14 marzo... Al 14 marzo pubblicheremo sulle pagine del Clebino e del mondo degli eclettici, pubblicheremo questo sondaggio. Il 15 invece, intorno alle ore 20 e 30, ci vediamo poi al Clebino per poter trascorrere insieme questa oretta, per divertirci stare insieme. Allora, in attesa di incontrarci al Clebino e scoprire tutte le modalità tramite web, quindi dalle pagine del mondo degli eclettici e del Clebino, come giustamente ha ricordato Gianluca, e poi live nel senare del 15, noi vi salutiamo e io cercherò di scoprire chi è che viene accennato. Ma io non glielo dirò però chi è, deve venire e deve scoprirlo lì al momento. Cercherò di partecipare dal web inizialmente. Ecco, grazie a te. Grazie.